I dati possono farci prendere decisioni rapide, con più lucidità ed efficacia. Peccato che nel nostro paese la cultura e la volontà di confrontarsi con i dati scarseggino. Quando vanno su, siamo contenti. Quando calano, piangiamo. Sono i dati, i mattoni, su cui si costruiscono le aziende che vogliono avere un futuro e hanno tantissime cose da dirci. Proviamo a scoprirle insieme. Benvenuti su Merita, il podcast per chi fa impresa. Io sono Giorgio Minguzzi e oggi parleremo dell'importanza che hanno i dati nel prendere le decisioni sulla nostra attività. Negli ultimi anni si è rafforzata l'idea che le aziende data-driven, cioè guidate dalla conoscenza dei dati, siano più performanti. Probabilmente è proprio così. Ma come si diventa un'azienda data-driven? Come si costruisce un'azienda che prende le decisioni basandosi sui dati? E poi da dove si prendono questi dati? Quanto costa estrarli? Sì, perché spesso si dice anche che il petrolio dei nostri giorni siano proprio i dati. Beh, trasformarsi, cambiare approccio e comprendere queste dinamiche non è mai semplice, specialmente quando la cultura delle informazioni scarseggia fra i manager del nostro paese. Ecco perché ho invitato William Sbarzaglia, un data scientist che aiuta le aziende a far diventare informazione tutti i dati che hanno nei loro sistemi, proprio per aiutarci a capire quanto sia conveniente iniziare a prendere decisioni basandosi su evidenze e non su sentimenti. William, benvenuto su Merita. Grazie. Senti William, si dice che il petrolio dei giorni nostri siano i dati. Tutti magnificano la data-driven company, ma io in tanti anni posso citarti che sì, qualche colosso della Silicon Valley prende davvero decisioni guardando i dati nel dettaglio. Ma in Italia, altro che data-driven, sarebbe già tanto se fossero data-informed. Come mai ci sono così tanti problemi con i dati? Allora, provo a rispondere subito alla domanda, ovvero perché i dati sono un problema. Ma direi perché, prima di tutto, non c'è abbastanza cultura e ovviamente anche competenza. Però nel momento in cui c'è la giusta formazione e anche il trasferimento di concetti base dell'analisi dei dati, allora diventa molto più facile attribuire la giusta importanza e visione dei benefici che ti può portare appunto il dato, ottenere dei risultati. Io stesso, anni fa, per farti capire, per essere efficace, ma non solo ad eventi, ma anche a livello commerciale, per essere efficace nel far comprendere appunto l'importanza dei dati, cosa facevo? Mi concentravo sul far capire il comportamento degli utenti, ok? Facevo vedere, puntavo sulla leva dei soldi, ok? Facevo capire come allocare il budget in base a delle azioni o campagne. In sostanza, appunto, facevo capire come non buttare via i soldi e o ottimizzare le risorse che avevo. Usavo questa leva e funzionava. Ora direi che c'è stata sicuramente una evoluzione, si deve parlare sicuramente di data-driven, sempre, sia in ambiti molto piccoli, ma anche in multinazionali o grossi brand, perché prima di tutto il data-driven è un approccio, ok? E quindi anche solo l'approccio, la modalità di pensare, chiamalo come vuoi, il mindset, non ha dei costi, ok? Per quello che è utile pensarlo sia per piccolissime realtà che per grossi aziende. Quindi l'approccio data-driven significa ragionare in una modalità in cui possiamo continuare ad avere delle intuizioni, delle idee, ma supportate sempre dai dati, guidate e tenute sotto controllo da indicatori di performance, quindi i famosi KPI. Questo tipo di approccio e la relativa applicazione ha fatto sì che alcune realtà che tutti quanti conosciamo sono diventate veramente dei colossi, per citarne una, che io di solito appunto la porto come esempio a eventi di settore, booking.com, che ovviamente ha abbracciato in maniera ampia il data-driven in modo da partire sempre dalla base della piramide decisionale, fino ad arrivare a chi deve decidere, a chi deve scegliere se fare o meno una cosa. E quindi dopo diventa facile prendere decisioni, ovviamente anche in maniera più veloce. Quindi un'altra precisazione che ti potrei fare è sulla differenza che hai citato tu prima, cioè tra data-driven e data-informed, proprio una roba veloce. Prima di tutto si tratta, io la chiamo una sorta di evoluzione, ovvero un buon processo data-driven deve essere anche data-informed. Cosa significa? Ci deve essere la possibilità di ottenere, di tenere in considerazione le esperienze precedenti, quello che è successo, quello che ha funzionato o che non ha funzionato, quello che ha portato dei risultati e fare ovviamente il tesoro degli errori commessi. Sicuramente un grosso limite in Italia è ancora quello di pensare che se le persone sbagliano siano degli incompetenti, ok? Mentre è normale, ok, inserire in un processo data-driven, o meglio data-informed, la possibilità di sbagliare, o meglio di sperimentare, di tenere sotto controllo il processo per capire subito se fermarsi, bloccarsi subito, tornare indietro, cambiare direzione o andare avanti veloci, spediti, per cavalcare l'idea di business vincente. Ok, poi magari ti lascio anche così per il blog due schimini che di solito posso vedere per il data-driven e data-informed. Certo, sai che a me piacciono i CRM e sai anche che secondo me uno dei modi migliori per condividere i dati in modo che diventino informazioni in azienda è proprio di metterli dentro il CRM, perché il CRM è un po' il pivot di tutte le azioni sul cliente e nel mondo del CRM appunto la radice, quel customer, è così importante, tant'è vero che si va a tracciare il customer journey. Ma la parte che tu, diciamo, hai aperta e scoperchiato parlando di data-driven è anche legata alla user journey. Perché dovrei interessarmi a un ennesimo journey? Non ne ho già abbastanza di roba da tracciare col customer journey. Ok, allora anche qui faccio un paio di precisazioni, in particolare tra user journey e customer journey. perché quando siamo in una situazione di analisi di un utente solo sul digitale come un sito web oppure uno store online, un e-commerce o perché no, anche solo una landing page, allora siamo nella situazione della user journey, ovvero il percorso che fa l'utente verso la meta finale, sia appunto una conversione qualunque, un acquisto, una richiesta di preventivo, o un'iscrizione ad un corso o ad un evento. Mentre quando siamo in uno scenario più ampio e abbiamo anche delle situazioni offline, interazioni dirette con delle persone, allora siamo nell'ambito della customer journey. Quindi il concetto è sempre lo stesso. Cioè quindi vogliamo mappare il percorso che fa un utente, una persona, appunto verso il nostro servizio, il nostro prodotto, il nostro brand. E qui il CRM diventa fondamentale, perché dopo tanti sforzi, investimenti, dobbiamo ovviamente curare il nostro contatto. Quindi nel momento in cui passiamo da un funnel, dal marketing funnel, dal sales funnel, il nostro contatto, nel momento in cui entra nel sales funnel, che appunto sia un prospect o un lead molto interessato, il CRM diventa fonte di dati essenziale per sapere cosa fare, con chi, grazie a dati non solo quantitativi, cioè quante persone sono entrate, quanti preventivi, eccetera, ma anche qualitativi, come ad esempio gli interessi specifici di quella persona, quali esigenze ha e di conseguenza quali problemi possiamo risolvere in base appunto al prodotto e alla soluzione che abbiamo. In sostanza con un buon lavoro si possono segmentare e accorpare i profili per farli poi coincidere, perché no, con le famose buyer personas. Ad esempio, io lavoro moltissimo nell'ambito dell'automotive e in un processo di customer journey è importante mappare e concentrarsi su segmenti specifici di contatti, ad esempio i già clienti di una concessionaria che potenzialmente possono riacquistare una nuova auto nello stesso brand dopo lo scadere, perché no, di un programma di finanziamento di tre anni. Questi sono ovviamente dati che possiamo avere all'interno di un CRM da riattivare con campagne, eccetera. Sì, tu mi hai convinto, la cosa che però mi fa molta paura è che già è molto difficile tracciare i touch point del cliente in generale, quando lui comunque si presenta in un negozio fisico, in un hotel, lui si presenta fisicamente e ci sono delle modalità per tracciarli. Ma quando parli di user journey, la mia preoccupazione è sempre quella di fare fatica a tracciarli, un po' perché potrebbero essere tantissime le cose da poter monitorare e un po' perché tanti dei siti delle PMI italiane non hanno i volumi di traffico che ha, non so, booking o il sito di una nota marca di automobili. Come mappo questa user journey? Guarda Giorgio, qui al contrario di quello che si può pensare la parte più impegnativa non è tanto l'implementazione tecnica ma la progettazione. Quindi diventa proprio un approccio che se tutte le volte noi lo implementiamo diventa tutto più snello. Quindi nella stragrande maggioranza dei casi che io ho analizzato il problema non è ottenere i dati ma far sì che siano presenti delle situazioni progettate da qualcuno che di solito è l'esperto, il UX designer o il customer experience designer quindi chi progetta il percorso in un sito web degli utenti o che progetta in maniera più ampia il percorso che fa una persona per arrivare ad un acquisto in modo da identificare a che punto è l'utente nel percorso che abbiamo progettato quindi che qualcuno ha progettato. Per agevolare questo processo visto che tu hai mosso una problematica ho messo proprio a punto un metodo che ho chiamato User Journey Analytic System che ho presentato tra l'altro in anteprima al Marketing Analytics Summit a novembre 2019 e questo metodo ti permette di agevolare e velocizzare appunto la parte di progettazione attraverso anche dei canvas quindi un supporto visivo perché no anche fisico stampato quindi dei canvas personalizzati in modo da mettere in pratica l'approccio data driven. Permette anche questo metodo di identificare facilmente i KPI e quindi anche di implementarli in maniera analitica con strumenti gratuiti come Google Tag Manager e Google Analytics e infine l'ultimo elemento che aiuta a mio avviso tantissimo a semplificare tutto è la rappresentazione tramite la data visualization anche qui con strumenti come perché no Google Data Studio che ci aiutano poi dopo a rendere diciamo lampante quello che sta succedendo diventa facile comprendere i dati non servono più delle grandi competenze perché se ci sono degli indicatori molto facili da comprendere allora diventa anche facile poi dopo prendere delle decisioni. Certo, ok, ho capito cosa mi stai dicendo tu mi dici di disegnare il flusso prima progettarlo e poi tecnicamente è molto facile raccogliere questi dati ok, io ho tanti dati ma poi a questo punto li devo anche saper leggere e questo non è banale perché l'imprenditore non ci guarda mai oppure fa dei ragionamenti un po' bovini come se va su il dato sono felice se va giù sono triste come faccio a far diventare tutti questi dati informazioni? Allora qui c'è un processo intanto faccio una precisazione perché quando si parla di dati spesso si pensa a un report ok, invece con questo metodo che appunto mi sono reso conto che nel tempo c'era un po' questa lacuna perché effettivamente esiste quindi diventa facile nel momento in cui i dati vengono rappresentati non in modalità di report ma quando viene data una forma logica e sequenziale quindi ripeto non dei report per sapere cosa è successo a fine mese o a fine settimana ma ottenere una vera e propria mappatura in tempo reale che ci permette di comprendere il comportamento dell'utente quindi anche i PPI diciamo l'indicatore di performance nei vari touch point nei vari punti di contatto che l'utente attraversa e infine suggerire le eventuali azioni azioni che possono essere o correttive o migliorative in questi punti ok a questo punto però mi sorge un dubbio perché dell'esperienza che ho io io non ho mai visto il cliente muoversi secondo la logica che io ho preparato cioè sì io facevo delle assunzioni e poi ho scoperto quasi sempre che il cliente si spostava nel funnel o da un touch point all'altro non con l'ordine che avevo pensato ma completamente a volte anche a caso tornando indietro ritornando avanti facendo un balzo ecco non era non seguiva in pratica pedissequamente quello che avevo che avevo progettato quindi mi viene da chiederti come posso accorgermi delle inefficienze e come posso presentare qualcosa che poi discosta dalla realtà come faccio a migliorarlo a quel punto perché mi accorgerò prima o poi che il cliente non fa quel processo lì che avevo in mente ma ne fa un altro sì allora è normale è normale questa cosa qua però bisogna sempre iniziare da da alcune situazioni ok come anticipavo ho un'ipotesi no? sì esatto esatto come anticipavo prima possiamo avere l'ansiazità proprio di di inserire dei touch point perché spesso succede che magari abbiamo impostato una strategia troppo brutale ovvero abbiamo progettato un funnel troppo breve e non abbiamo dato elementi a sufficienza all'utente per ottenere le giuste informazioni cioè che gli permettono di proseguire verso la parte bassa del funnel ovvero la conversione oppure probabilmente non abbiamo differenziato i percorsi che questo è un altro errore tipico cioè quindi magari non stiamo non stiamo soddisfacendo in maniera personalizzata i vari segmenti di pubblico in questo caso potrebbe essere utile e strategico differenziare i percorsi per utenti avanzati o livello base proprio in questo caso faccio un esempio nel tuo ambito Giorgio dei CRM ho fatto una consulenza ad un'azienda che offre soluzioni CRM e BPM che tu sicuramente conosci però potrebbe essere che qualcuno non sa non conosce questi termini ma ha bisogno di quel tipo di soluzione ovvero del business process modeling e quindi un'azione tipica è quella di dare delle informazioni basiche per far capire cosa si sta facendo a chi non è competente o non conosce quel termine altra azione tipica è la marketing automation perché la possiamo attivare in determinati task point che diciamo riteniamo strategici e vedere cosa cosa succede e migliorare ad esempio la la CROW quindi la conversion rate optimization quindi possiamo innescare che ne so processi di nurturing attraverso le DEM eccetera però è importante continuare a diciamo mappare in maniera ciclica quindi con l'approccio data driven e valutare se esistono degli scenari che come dici tu magari erano sfuggiti non ci avevo pensato o se effettivamente l'utente sta facendo quel percorso che era stato progettato e perché no attivare anche degli alert in alcuni momenti con dei KPI che possono essere diciamo positivi e capire se ho una situazione che posso sfruttare ancora di più o delle situazioni d'allarme beh a questo punto che ho mappato tutte queste queste attività diciamo come come posso rendere più rapito il processo decisionale per migliorare le cose certo guarda una delle cose belle di questo approccio che è anche diciamo espresso nel metodo che ho ideato è l'estrema scalabilità e anche adattibilità sulle dimensioni per rispondere anche alla domanda alla tua osservazione che hai fatto prima e anche tipologie di business cioè il tutto incide intanto in termini di miglioramento delle performance e degli obiettivi qualunque si siano di vendita fatturato acquisizione lead richiesti preventivo qualunque iscrizione di eventi corsi brand awareness qualunque sia l'obiettivo ti faccio un esempio io questo questo metodo qui questo approccio l'ho insegnato a grossi brand a multinazionali ma è anche applicabile in realtà molto molto piccole perché no per un anche un freelance che vuole migliorare la propria user journey su una landing page dove promuove il suo corso e oppure mi è capitato anche di applicarlo ad una azienda che organizza viaggi itineranti in bicicletta e lì per rispondere alla tua domanda cosa è successo che dopo che gli ho applicato questo metodo è stato diciamo facilmente facile individuare che alcune mette tra l'altro in cui periodo lì erano appunto mette di capodanno è stato facile individuare che alcune mette avevano dei kpi intermedi non soddisfacenti perché cosa succede che spesso si fa l'errore di pensare al traffico quindi alla parte alta del funnel e al risultato finale quindi la parte finale del funnel se abbiamo dei kpi intermedi quindi abbiamo degli indicatori lampanti che ci dicono guarda c'è questo passaggio che non sta andando bene quindi non leggono per esempio tutta l'email o tutto il post ne leggono solo una parte e poi lo lasciano una roba del genere è un esempio in questo caso qui semplicemente in questa agentia succedeva che magari veniva aperto l'offerta del del capodanno a Palermo ma non proseguivano non guardavano la scheda non chiedevano il preventivo non contattavano l'operatore eccetera in questo caso qui ha messo un campanello all'armi ha permesso di non aspettare semplicemente i risultati in fondo al funnel ma di effettuare delle analisi predittive in modo da intervenire per migliorare le performance e quindi migliorare il proprio business perché in questo modo qui tu hai degli elementi che ti permettono di non arrivare alla fine e dire ah è andata male ok questo questo è molto è molto facile quando tu hai un e-commerce o un carrello dove tu vedi il tuo user journey vedi se poi converte o no e risali come diciamo risali la corrente andando a vedere dove c'è l'intoppo ma quando non hai un non hai un carrello non è altrettanto semplice la domanda che ti sto per fare è questi dati come vanno a incidere nel business quando non c'è l'evidenza di un risultato lampante come quella di ha comprato non ha comprato perché c'è un carrello qui bisogna fare un passo indietro e andiamo nella creazione c'è tutto questo impostare gli obiettivi come dicevo qualunque si siano non ci deve essere per forza la conversione di un acquisto potrebbe essere che io devo far ottenere un lead un'iscrizione a newsletter far leggere un articolo ok ognuno ha il suo obiettivo nel momento in cui faccio il passaggio del obiettivo rendo chiaro qual è la tattica l'azione che faccio per ottenere quell'obiettivo identifico il KPI che misura quell'obiettivo altro elemento fondamentale del modello data driven è avere il KPI atteso quindi devo aspettarmi un valore che sia un'ipotesi o grazie al modello data driven guardarmi indietro e capire che il risultato è ottenuto qualunque esso sia io ho una misurazione del mio intento qualunque esso sia che sia appunto una lettura di un articolo o ho avuto la percezione ottima del brand o un dato qualitativo io devo avere in linea tutti questi elementi che mi permettono di prendere delle decisioni basate su qualcosa di concreto che sia un dato quantitativo o qualitativo ok ma tutta questa giambolica di attività poi alla fine hanno un costo è sostenibile nelle piccole aziende allora come dicevo sì perché ho l'ho visto in pratica applicandolo a piccolissime realtà ripeto che sia un freelancer o una piccola agenzia o una piccola azienda diventa vincente l'approccio cioè io ti dico la verità è successo che alcune aziende molto strutturate eccetera compilavano in maniera metodica il canvas solo potevano permettere di fare riunioni e lavorare in maniera collaborativa e ovviamente quella è una strada in alcune realtà ripeto molto molto piccole diventava quasi automatico l'approccio mentale e quindi facile da applicarlo senza ripeto costi perché l'approccio mentale non ha non ha un costo e a livello tecnico è la meno perché come dicevo è più impegnativo la progettazione e va ovviamente contestualizzata al business se io faccio questo approccio su una landing page non avrà lo stesso impegno su uno store online o una multinazionale quindi è scalabile questo modo qui questa secondo me la mossa vincente e perché funziona senti William io adesso immagino che ad alcuni dei miei ascoltatori sia venuta la curiosità di contattarti e quindi immagino che possano trovarti sul tuo sito oppure leggere delle note dell'episodio e magari raggiungerti su LinkedIn immagino anche che ci siano tanti ascoltatori che dei numeri non li abbiamo convinti che cosa gli possiamo dire di fare una cosa semplice da fare per convincersi a dare una chance ai numeri ai dati certo certo ma allora perché no oltre a questa puntata come materiale possiamo mettere a disposizione uno dei canvas che faccio vedere gli eventi e uso nelle formazioni e lo possiamo dare da scaricare e utilizzare immediatamente ok per capire come ci si accorge nell'immediato che questo metodo aiuta a fare ordine aiuta a capire quello che diciamo funziona le cose che abbiamo magari impostato hanno già una loro efficacia o dove sono i problemi già questa cosa è veloce io tante volte la faccio fare a dei gruppi di persone e in pochissimo tempo fanno delle cose che magari senza questo questo strumento che ho messo a punto magari ci avrebbero messo molto più tempo ok quindi questo qui già una mossa che fa capire che è la parte più ripeto impegnativa la progettazione la parte di implementazione tecnica è proprio la parte sì anche perché alcuni strumenti poi sono gratuiti tra l'altro quelli della parte penso a tech manager penso a google analytics una cosa fondamentale è che uno sviluppatore ecco se qualcuno non ha le competenze per implementare un evento lo si può sempre trovare mentre secondo me è più importante che chi gestisce un business che sia uno stakeholder o che sia appunto un piccolo imprenditore o qualunque altra forma focalizzata su ottenere dei risultati è bene che queste cose le sappia e le sfrutti bene grazie William se hai piacere se hai piacere sarei nuovo ospite ancora una volta qui è sempre un piacere poterti ascoltare su tematiche così interessanti grazie mille bene un sincero grazie a William per tutte le informazioni che ci ha dato durante la puntata di oggi gli appunti e le possibilità per scaricare i documenti Canva di cui ha parlato William sapete dove trovarle no? le trovate ma come dove? sempre al solito posto su merita.biz barra 231 episodio 231 merita.biz barra 231 ovviamente non dimenticatevi di iscrivervi al gruppo Telegram perché lì le informazioni continuano a girare anche fra una puntata e l'altra perciò vi aspetto su Telegram telegram.me barra MeritaBiz bene è davvero tutto per oggi io sono Giorgio Minguzzi e questo è Merita Business Podcast ciao a Grazie a tutti.